Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ratatouille. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, aglio, olio evo, dado vegetale bimbi, pomodorini tagliati a pezzetti, peperone rosso tagliati a pezzetti, peperone giallo tagliati a pezzetti, zucchine tagliati a pezzetti, melanzane tagliati a pezzetti, basilico, rosmarino, prezzemolo, salvia, sale e pepe nero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e l'aglio senza anima ed azionare il bimbi per tre secondi a velocità a sette. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per quattro minuti a 120 gradi a velocità a tre. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pomodorini, i peperoni, per tre minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere le erbe aromatiche, il dado, il sale, il pepe nero, le zucchine e le melanzane. ed azionare il bimbi per 18 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Verificate la cottura, eventualmente proseguite per qualche altro minuto, impiattare e servire. Ratatouille, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!